non potranno andare al circus e nemmeno stare nelle vicinanze per due anni cinque giovani colpiti dal daspo willy dopo la rissa di venerdì notte è finito in carcere l'uomo che aveva sparato un colpo di fucile contro i vicini a nave lo ha deciso il jeep di brescia l'ordine delle professori sanitarie di brescia nel mirino degli hacker sventata in extremis una truffa online e alessandro magro il coach della germani brescia l'ospite di tiri liberi appuntamento alle 21 qui sui live benvenuti in brello italia oggi più che mai conviene acquistare una nostra stufa perché grazie alla certificazione di qualità avrete diritto al rimborso del conto termico l'incentivo di cui vi parlo non è altro che un bonifico bancario non è un recupero fiscale in cinque e dieci o chissà in quanti anni ma sono soldi che vi arrivano direttamente sul vostro conto subito dopo l'installazione di un nostro prodotto chiamateci o veniteci a trovare presso le nostre sedi buonasera dal telegiornale come avete sentito dai titoli non potranno avvicinarsi al locale non ci potranno andare per due anni i cinque giovani coinvolti nella rissa di venerdì al circus di via dal mazzia sentiamo i dettagli nella notte fra venerdì e sabato si erano resi protagonisti di una violenta rissa all'esterno della nota discoteca circus di via dal mazzia a brescia oggi per cinque giovani poco più che ventenni sia italiani che stranieri è scattato il cosiddetto da spowilli a disporlo è stato il questore di brescia pochi giorni dal fattaccio che ha visto i ragazzi malmenarsi a vicenda per motivi non del tutto chiariti sul posto erano dovuti intervenire gli agenti della volante della polizia di stato che dopo aver placato i bollenti spiriti avevano denunciato i contendenti il provvedimento prevede l'assoluto divieto di accedere al locale e di sostare nelle immediate vicinanze per i prossimi due anni in caso di violazione è prevista una multa salata da 10.000 a 24.000 euro oltre alla sanzione penale della reclusione da uno a tre anni ricorderete la vicenda di un uomo che aveva sparato a nave all'indirizzo dei vicini che stavano potando degli alberi era il 9 marzo era stato arrestato oggi il jeep del tribunale di brescia ha deciso che deve andare in carcere si sono aperte le porte del carcere nero fischione per l'uomo che sabato 9 marzo scorso a nave aveva esploso un colpo d'arma da fuoco all'indirizzo dei vicini di casa senza fortunatamente colpirli immediato l'intervento dei carabinieri della stazione di nave che avevano arrestato l'uomo un italiano pregiudicato in flagranza di reato con le accuse di detenzione di armi clandestine violenza privata detenzione illegale di armi da sparo e ricettazione quel pomeriggio alcuni residenti in via montecchio a nave avevano chiamato il 112 segnalando la presenza di un uomo armato di fucile che aveva esploso un colpo con l'arma i militari arrivati in pochi minuti sul posto erano entrati nell'appartamento dal quale era partito il colpo la perquisizione aveva dato esito positivo con il rinvenimento di quattro fucili oltre a numerose munizioni di vario calibro tutte illegalmente detenute l'accertamento sui fucili aveva permesso di stabilire che due erano privi di matricola e pertanto clandestini un oggetto di furto a gavardo nel 1992 in tribunale a brescia il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e disposto il trasferimento dell'uomo nel carcere cittadino di canton mombello una donna è stata di fatto salvata si è salvata grazie al bracciale antistupro sentite nella storia è stata circondata e molestata da una baby gang mentre stava viaggiando su un treno da milano a brescia si è salvata dall'assalto del branco solo perché in quel momento indossava un braccialetto antistupro a riportare la notizia è l'agenzia adn kronos che racconta di come la giovane una 17enne residente nella nostra provincia abbia avuto la freddezza di attivare il dispositivo e quindi fuggire aveva trascorso la giornata nel capoluogo lombardo con un'amica e per tornare a casa aveva scelto il treno un vagone tranquillo e poco affollato si era seduta e come tanti si è messa alle cuffiette per ascoltare un po di musica a un certo punto la baby gang è entrata nel vagone con il chiaro intento scrivono di aggredirla e toccarla ripetutamente l'ingresso di un'altra persona ha distratto per un secondo i ragazzi permettendo alla minorenne di attivare il bracciale premendo per tre volte il pulsante su di esso si tratta di un in letto un dispositivo che emette un suono superiore ai 110 decibel e poi invia una serie di messaggi d'aiuto a dei contatti precedentemente selezionati oltre che a una centrale operativa attiva 24 ore su 24 l'ordine delle professioni sanitarie di brescia è stato nelle merino di hacker hanno tentato di far fare alla banca appunto dell'ordine un bonifico entrando di fatto nella mail sentite però com'è andata sarebbe potuto costare molto cara l'ordine delle professioni sanitarie di brescia la truffa che i noti hanno messo in atto ai danni dell'albo professionale hanno hackerato la mail di servizio e dato mandato alla banca di effettuare un bonifico di importo consistente a un iban di persona fisica una disposizione che ha insospettito l'istituto bancario il direttore ha chiesto conferma della richiesta di bonifico agli uffici amministrativi di brescia scoprendo di fatto che si trattava di una tentata truffa in atto immediato l'intervento del presidente dell'ordine luigi peroni che ha bloccato tutti i conti allertato la polizia postale le indagini sono già state avviate e la denuncia depositata abbiamo evitato che la truffa andasse a buon fine ha sottolineato peroni grazie al tempestivo intervento del direttore della banca dove sono aperti i nostri conti e alla costante sorveglianza mia e del nostro ufficio amministrativo mi scuso prosegue peroni se per qualche giorno gli iscritti hanno avuto dei disagi ma è stato necessario porre tutte le nostre attività digitali in sicurezza ringrazio la polizia postale per il rapidissimo intervento e per le indagini che permetteranno spero di identificare gli autori dell'attacco informatico ai nostri danni c'è una novità importante per chi viaggia in treno perché dal primo aprile e non è un pesce d'aprile non si pagheranno più i supplementi in caso voi viaggiate si viaggi con bicicletta a seguito o un amico a quattro zampe è una delibera che porta finalmente dal primo di aprile la possibilità ai ciclisti per quanto riguarda le biciclette ma soprattutto agli amici a quattro zampe di poter viaggiare gratuitamente sui treni di tre nord in tutta la lombardia è previsto un incremento del biglietto soltanto per i viaggi trasfrontalieri e extra regionali il viaggio è consentito agli amici in quattro zampe se trasportati nel trasportini per quanto riguarda gli animali di affezione per quanto riguarda i cani invece a guinzaglio e con la museruola il trasporto invece di bici che è un ottimo aiuto soprattutto che per chi va al lavoro anche con la bici e per chi invece per piacere ha la possibilità di trasportarle gratuitamente sui treni di tre nord potiamo pagina ora parliamo invece di una che è stata definita occasione storica per brescia ovvero quella di ospitare la sede del delle iniziative per il sociale di banca intesa è proprio la sede ufficialmente in via trieste 8 che per tutti vuol dire in piazza duomo l'ex sede di ubi con col primo credito crario bresciano oggi è diventata appunto la sede di intesa per il sociale l'inaugurazione questa mattina un'occasione storica formidabile che che ha che offerta a brescia che è ricca di questi valori tradizioni di ogni tipo nel novecento si erano espressi in gran parte anche nelle due banche credito agrario bresciano e banca san paolo ma in precedenza anche nei secoli precedenti erano tutta una serie di realtà che oggi sono espresse nel terzo settore quindi valori che hanno caratterizzato la storia di brescia e che hanno concorso sicuramente a influire sulla scelta di brescia da parte di banca intesa nel creare quello che come avete sentito diventerà il centro proprio anche ideativo il cervello che tutta l'attività sociale che banca intesa sta facendo e rimaniamo in tema economico anche se la notizia non è buonissima perché la crescita è in frenata per quanto riguarda il 2024 il centro studi di confindustria vede una crescita dell'italia frenata a inizio 2024 secondo l'analisi congiunturale mensile l'economia italiana è sostenuta da inflazione bassa fiducia delle famiglie in aumento e servizi in crescita mentre l'industria sembra stabilizzarsi vari però i fattori negativi si protrae il freno ai flussi commerciali nel canale di Suez il petrolio continua a rincarare il taglio dei tassi è rinviato ancora il credito alle imprese resta in calo si prospetta un pil debole nel primo trimestre 2024 l'inflazione italiana è rimasta bassa e stabile a febbraio con i prezzi energetici che fanno segnare meno 17 per cento senza risentire finora del caro petrolio tuttavia nella media eurozona l'inflazione resta sopra la soglia bce del 2 per cento per i consumi più luci a gennaio le vendite al dettaglio scendono poco sul fronte del lavoro marginale calo degli occupati ma l'andamento di medio termine resta molto positivo e sostiene i redditi a febbraio è risalita ancora la fiducia delle famiglie anche se tassi e prestiti non aiutano per gli investimenti più ombre il credito è in calo a febbraio gli ordini delle imprese di beni strumentali si assottigliano c'è un'iniziativa molto originale di fondazione brescia musei in occasione in concomitanza fosse il caso di dire della chiusura delle scuole per le festività pasquali ed è un camp organizzato a santa giulia in vista delle vacanze di pasqua con la classica chiusura delle scuole fondazione brescia musei ha organizzato uno spring camp rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni sarà un camp di tre giorni dedicato alle sperimentazioni artistiche riflessioni riguardanti gli artisti e i temi delle due mostre del brescia photo festival allestite al museo di santa giulia e inoltre una terza giornata divertente e spensierata per trasformare il parco delle sculture contemporanee l'artico virilarium con lo stile dell'artista giapponese yaioi kusama la prima giornata del campo giovedì 28 marzo sarà l'occasione per immergersi nel mondo del maestro della fotografia franco fontana e capire l'importanza del colore nei suoi scatti il giorno successivo la farfalla icona delicata della primavera sarà la protagonista le attività saranno dedicate alla sperimentazione delle tante possibilità di rappresentazione di questo insetto e comprenderanno una passeggiata nella mostra maurizio galimberti brescia piazza loggia 1974 martedì 2 aprile l'attività sarà invece dedicata alla tecnica dell'artista giapponese yaioi kusama grandi fiori e pua coloratissimi collocati fra gli antichi sarcofagi e reperti marmorei trasformeranno lo spazio del parco delle sculture del museo di santa giulia ed ora il meteo ma per parlare non tanto di previsioni ma quanto di equinozio di primavera che è stanotte il satellite ci mostra il fronte che sta attraversando le regioni meridionali italiane in particolare il basso versante adriatico e ionio con gli ultimi fenomeni che però saranno seguiti da un generale miglioramento del tempo per via della rimonta di un promontorio di alta pressione non particolarmente forte ma che comunque porterà qualche giorno di stabilità e tempo in prevalenza soleggiato su gran parte d'italia con anche temperature in aumento valori molto gradevoli massime intorno ai 20 gradi localmente anche superiori al nord tra l'altro domani cade l'equinozio di primavera quest'anno esattamente alle ore 4.06 del mattino del 20 di marzo equinozio che dà via ufficialmente alla stagione primaverile astronomica ed è il giorno in cui i raggi solari sono perpendicolari all'equatore quindi la durata del giorno è uguale alla durata della notte su tutta la terra per quanto riguarda poi la tendenza dei giorni successivi tra il 21 e il 22 marzo transiterà un blando fronte da nord che però lambirà soltanto l'italia in particolare le regioni adriatiche portando qualche fenomeno qui e alla sud ma non particolarmente organizzato mentre una perturbazione più intensa organizzata e attesa a partire dal weekend in particolare da sabato quando un affondo di aria più fredda porterà appunto una fase più instabile a tratti anche di maltempo e un calo delle temperature però per tutti i dettagli e le conseguenze sulla vostra località vi invito a rimanere aggiornati sulla nostra app di trevi meteo brevissima pausa e poi c'è lo sport e rimanete con noi vuoi vedere le trasferte del breccia per i prossimi tre mesi vieni negli store breccia calcio acquista un qualsiasi prodotto dello store e ricevi subito tre mesi di abbonamento sky ti aspettano tutte le partite in trasferta della nostra squadra del cuore è un'iniziativa breccia store di via 10 giornate 85 via solferino 51 e all'interno di obiettronica in via genova 4 buona serata gli amici sportivi stasera il nostro tg sport è tutto sul basket e innanzitutto con una prima notizia che vi porto sulla quale te la trovate sul nostro giornale online e vi porto su elivebreccia.tv eccola qua coach Diana che è rimasto insomma nel cuore dei brecciani torna in panchina è il nuovo allenatore di trapani lo ricorderete dopo la vicenda che si è conclusa un po velocemente alla virtus bologna a fine estate ora coach Diana riparte dalla serie a2 sarà il nuovo allenatore di trapani in shark e quindi da tutti noi l'augurio di un buon lavoro e un grossissimo in bocca al lupo ad andrea Diana stasera si parla di basket della serata del basket su elive c'è tiri liberi e c'è un ospite d'eccezione sentiamo le anticipazioni da francesco foresti buonasera direttore buonasera chi sta seguendo il telegiornale come ogni martedì anche questa sera puntuali alle 21 in diretta torna su elive tiri liberi l'appuntamento con il basket sarà certo l'occasione per parlare purtroppo di un'altra sconfitta quella bruciante di sassari dopo un overtime sarà anche l'occasione senza dubbio di presentare la maxi sfida del prossimo lunedì sera contro la virtus bologna in casa scontro diretto in vetta alla serie a di basket però sarà anche una puntata davvero molto speciale perché faremo un buon bilancio proveremo a guardare anche avanti in questa stagione che ormai si sta concludendo ma ancora non è conclusa anzi con la presenza in studio dell'allenatore di palacanestro brescia coach alessandro magro insieme a me insieme al coach ci sarà ovviamente la squadra di tiri liberi questa sera composta da claus krug e paolo roselli e nicola ferri se volete scriverci ovviamente c'è sempre il nostro numero 393 181 0 181 mandateci i vostri messaggi whatsapp un semplice saluto ma anche domande commenti e curiosità che rivolgeremo al coach alessandro magro vi aspetto alle 21 tiri liberi quindi non mancate rimanete con noi stasera anche in mobilità anche sul vostro telefonino ci si potete seguire potete leggere il giornale online che continua con le notizie ad aggiornarsi per tutto all'arco della serata e trovate anche il canale 181 del nostro digitale terrestre e sul telefonino arrivano anche tutte le nostre notizie aggiornate in real time eccole qua scaricando innanzitutto l'app di live su apple store google play è completamente gratuita sui nostri canali telegram e whatsapp e ovviamente sui nostri social nostre pagine social instagram e facebook con tutte le notizie che si aggiornano man mano trascorrono le ore nell'arco della giornata da parte mia è tutto ci vediamo domani come sempre nell'edizione della sera alle 19 buona serata e rimanete con noi per il basket grazie